Questo reparto è la nostra famiglia. Dobbiamo difenderla. Non ho più paura. Non dovete averne neanche voi. Noi pazienti li ascoltiamo. Però non mi arrendo. Rivolgo il mio posto da primario. Finalmente ci siamo. Senza di voi io non potrei fare nulla. L'attesa è finita. Ci aspetta un nuovo primario. Sperando di essere ancora in tempo. Io ci tengo davvero a questo reparto. Arrivano i nuovi episodi. Doversti cominciare a vivere anche fuori dall'ospedale. Cecilia. Ti ricordi quante notti hai passato a studiare? Io e te, Agnese. Vedo che sei riuscito a far crollare difesa immunitaria anche dell'infettivologa, eh? In prima visione... Senti un po', Doc. Ti chiamano così, no? Sì. Lo chiamiamo così. Doc. Nelle tue mani. Seconda stagione. Da giovedì 13 gennaio, 21 e 25. Rai 1.